resident evil for no esce dobbiamo andare a mettere ad attivare quella cosa porca puzzola apri va allora esaminare è un momento c'è un foro circolare nel centro e ce lo possiamo mettere sto gioco vai se hai usato lo stemma famiglia salazar adesso posso girarla vai e vai e non agire esaminare ancora girare si gira va mamma mia la scala dimmi che ci riporta da da leo dimmi che ci riporta da leo olé dov'è prendiamo pesetas pesetas perfetto e suppongo di qua sicurità così mesano dei trappolone corriamo con leggiadria con leggiadria bravissima andiamo via con leggiadria ma rigati di qua bravissima adesso con leggiadria quest'ultimo pezzetto mazza nessun trappolone tutto sto corridoio l'hai sbloccata grazie ma va oh finalmente va fine del capitolo nemici uccisi 329 salvare si vide utilizzate 28 madonna va bene 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 va ci vogliamo stare per quanto e la mettiamo qui ole c'è un po d'ordine ole ecco fatto Vamo's Allora, qui abbiamo preso tutto Giusto, esce mi pare di sì Quindi damose va Damose, damose, damose Damose prima di subito Ma che cacchio è Occhio, eh C'è un'altra macchina da scrivere? Troppa roba qui, troppa roba Allora, cominciamo dai vasi, esce, vai C'è una ceppa come al solito Ma è una gioia, annoia Già è tutto Più difficile Col fatto che non riusciamo a gestirci Qui il movimento E via dicendo Allora, scusa, fammi vedere un attimino Cos'è questo? Un divanetto? Ah Eh sì, ma qua Allora, qui intanto c'è una macchina da scrivere Però abbiamo salvato adesso Non mi pare il caso Che cos'è sta roba? Eh sì, buonanotte Non saprei Allora Aspetta un attimo Salgo io qui Non me fido Non me fido per niente Ma sembra però un sistema quasi a carrucola Salire Ah, non vedi come funziona Non pensavo che era un trappolone Madonna Sì E quindi Dove andare alla porta? Ma lascio Ashley? Lì? Mh Non mi fido Lo sapevo io Lo sapevo io Lo sapevo Eh, ma lo sapevo Che cosa c'è? Un tesoro? Mo se non è più che Eh, dagliele Se non ne vale la pena Guarda, eh Ah, eccola Che pareva Via, via, via Quello sputa fuoco Sputa fuoco Attenzione Attenzione Allora, io userei a sto punto Fucile di precisione Vediamo un po' Eh, da qua non lo becco però Il maledetto Se gira sta cosa? La, la giri? No, eh Ah, aspetta No Forse con la pistola è meglio Non saprei Però così sto più precisa Vediamo un po' Eh, cacchio, Leo Oh, eppure questi Sembra che se Che se rompono, no? No, stiamo a sprecare Solo munizioni del cacchio Allora, riproviamo Eh, posso far così Oh Fatta in bagnetto Va Ah, vedi È uscito fuori un bauletto Aspetta però, Leo Riequipaggiamo Per cortesia la pistola Perché Sì, ok Carica Vai Dov'è il bauletto? Eccolo qua Apri Prendi, prendi Cinquemila pesetas Che è un trappolone Questo, madonna Cioè, ma dove siamo, Leo? Ah, dobbiamo andare qua sopra Vuoi mettere Oh, va, 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 va Salta Di qua adesso? Ah Ecco il buco, vai Ma che matalo Ero L'avete rotto L'avete rotto Oh, ma Te so attirare tutti i colpi in testa Possibile? No Ma maledetto Aspetta un attimo Aspetta, aspetta Aspetta, aspetta un attimo Che moto esistiamo io? No Porca vacca E dove devo colpire? Olè Vai Altro tuffetto Riaquipaggiamo la pistola, Leo Oh, nonostante il fuoco La vita ce l'hai? Altro bauletto Ma cos'è? Una zona bonus questa Che no Allora Che cacchio vuoi Tu pitturato? Vieni qua Vieni qua Con sta mappa Che c'hai Sulla capoccia No E dai però Cioè Ma quanti colpi Ti devo tirare? Stavo a modalità facile E poi morì Eh E andiamo No Cioè Voglio dire Eh Quando uno sta a modalità facile Due colpi Basta Cadi giù Non devi rompere Prendere ciondolo Illuminados Ari dai Ma no Torniamo indietro, Leo Dietro 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 Chi è? Ma vedi questo? No Mi sto colpendo in testa Ragazzi No Potevo usare il calcio Porca vacca Allora Bravissimi Morti Grazie Olè Il calcio Effettivamente Non lo uso mai Allora Cecchiniamo Anche questo Così ce lo vediamo Da mezzo Dai piedi Non ho capito Due colpi Servono Sto maledetto Oh Ammazzate Olè Quindi Bene Sedire sulla scala E noi arriviamo Al tesoro Grande Grande Allora Riequipaggiamo La pistola Leo Ok E qui va Già Sì Vamonos Qui ci dimentichiamo qualcosa No Vai Spero proprio Che ne valga la pena Però Ah Questo è un pezzo Di quella Sì Che si è tirata su Quando sei andato via Hobbit Allora Ma dobbiamo tornare indietro Suppongo Perché qui non si va più Da nessuna parte Quindi riprendiamo Sto cancello rotante Qui questa pedana Rotante Aspetta Leo Pronto Vai Vai Pronto Grande Leo Non so come hai fatto Perché hai preso in pieno Il murietto Comunque va benissimo Torniamo da Ash Spero che nel frattempo Non l'abbiano Adesso Ci trovo un sacco di nemici No Miracolo Miracolo Riprendiamo qui La pedana Movibile Volè Ma se può andare in giro Con questa Sarebbe molto più comodo Vamonos No Follow me Follow me Allora E allora andiamo Ah no Aspetta Mo salvo però Salvo perché Non devi dare Vero Allora 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 Salire no Allora qui c'è una porta E aspetta Qui c'è un va Due vasi Munizioni Spinello Perfetto Abbiamo un bel po' Di roba Da L'hai sbloccata Grazie Da vendere Da vendere Allo stranger Attenzione Attenzione Non è ancora Non è ancora completa Grazie al cavolo Aspetta Quindi non dobbiamo andare Nelle altre porte E proseguiamo Ash Perfetto Vai No Di qua Vai vai Diamo Diamo C'è niente da prendere Qui Nemmeno No Vai Allora Abbiamo un altro Cosa Da 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 prendere Andiamoci a farci Cioè andiamo a fare Un altro giretto Aspetta Lì c'è un vaso Aspetta Spinello Spinello Ci siamo imbottiti Di spinelli A sto gioco Salta Ancora Vai Munizioni Ok Perfetto Allora direi che adesso Possiamo andare anche A farci il giretto panoramico Vai Allora Allora Con calma ragazzi Allora qui c'è un altro vaso Lo andiamo a spaccare Lacrima viola Perfetto Un sacco di roba Da Da vendere Allo stranger Ancora Missioni No Ad una sensibilità Sto cosa Ogni volta Basta Basta un niente Aprire vai Oh Allora Allora Allì c'è qualcosa Troppi quadri Troppi quadri Questo Sicuramente in sé Apri Figurate E Questa si aprirà Allora Qui ci sarà lo stranger Un'altra porta qui Allora Innanzitutto Prendiamo qua Sì Granata Eh no Qui mi sa De trappolone Ah Qua ci stanno Un sacco De spinelli Ambedi Buttamoli giù Poi andiamo Dallo stranger Salviamo No Olè Ci arrivo da qua? No vabbè Avviciniamoci Spinello Gemma verde Gemma verde Attenzione Aspetta Olè Lagrima viola Altro spinello Figurate E poi Qui Che cacchio è? Farete Scusa un attimo Esaminare Un brindisi A sua maestà Ci dobbiamo mettere qualcosa No vabbè Trovarlo Su qualcosa Ma qui si esce? A che no? Penso che ce ne andiamo di sotto No no Via 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 E allora Torniamo indietanto Qui non si passa Andrei dallo stranger Ecco abbiamo sbagliato Dove l'ho mandato Allo stranger Scusa un attimo Allora lo stranger Era di 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 là Di là Olè C'è anche la macchina Da scrivere Oh c'è anche un vasetto Proiettili Qui non c'è nient'altro Te levi? Mamma mia Oh proiettili C'è sempre qualche cosina Sta musica da chiesa Aspetta qua c'è da leggere Campione recuperato Come avrete saputo Lui stasera è stato eliminato Da Lord Sadler Il campione è stato recuperato Speravo di risolvere la questione Senza scomodare il Lord Comunque Il fatto di aver recuperato Il campione Mi riempie di orgoglio Adesso che il campione È in mani sicure Quella seccatrice Non potrà più recuperarlo Alla luce di tutto ciò È un vero peccato Che Sera se ne sia andato Aveva un futuro brillante Davanti a sé Se solo avesse mostrato Più fede Per quanto riguarda Gli altri due americani Il Lord ci ha incaricati Di risolvere il problema Non possiamo deluderlo Dobbiamo catturare Ashley E consegnarla Al Lord Sì Sono tutti pazzi Allora Ma qui pure si va Vabbè Allora mio caro stranger Facciamo affari? Sì No Aspetta un attimo Vendo Vendiamo 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 robe No uovo di gallina No Spinello Nove spinelli Olè Lacrima viola Cinque Mamma mia la roba Gemma verde Montata su un altro Bracciale d'oro Ciondolo No no Vendiamo tutto E chi se ne frega Il ciondolo 12.000 Mortacci Stracci Allora Compro Vediamo Valigetta Extra E ma costa 73.000 Porca puzzola Un'altra pistola Io vorrei una pistola Un po' più Questa Sembrerebbe Potenza fuoco Mica male E costa pure questa Un botto Fucile semi automatico Mitraglietta Lanciamine Non saprei Vabbè Casomai torniamo dopo Ottimizziamo qualcosa Il fucile antisommossa Capienza Capienza Grazie caro Noi salviamo Così non rifacciamo Tutta la trafila Qui Olè E proseguiamo Andrei proprio di qua Andiamo Ma Scusa ma non stavi di là Tu Ma che ci fai di qua Prendere Tiro al bersaglio Regola il gioco Ottieni dei premi Totalizzando Più di mille punti Ottieni punti bonus Sparando alla testa Per punti extra Spara salazar Potrebbe apparire Se mandi a segno Colpi consecutivi Se spari contro L'obiettivo Esch Ti vengono stratti Dei punti In premio Un tappo di bottiglia Per ogni mille punti ottenuti Puoi ottenere Tappe di bottiglia speciali Colpendo tutti gli obiettivi Di legno Tranne Esch O totalizzando Più di 3.500 punti Ci sono 24 tappe di bottiglia In tutto Ogni volta che trovi Un nuovo tiro A segno Sei nuovi tappe di bottiglia Saranno disponibili Ogni volta che completi Una serie della raccolta Otteni punti bonus In totale ci sono 4 serie Hai 4 opportunità Per ottenere denaro extra Le collezioni di tappe di bottiglia Vengono visualizzate In una videata Chiavi tesori Vabbè Ho capito Vabbè E quindi vuol dire Che dobbiamo giocare Ci stai dicendo? Vabbè Allora Esch Ci tocca giocare Allora vado a giocare Vado Vabbè Grazie a tutti